buongiorno buongiorno a tutti allora qua si sta continuamente lavorando non si finisce mai stavo pensando mentre mi riposavo quanto mi è costato realmente il cinebasto cioè non è che comprando il cinebasto è finito lì ora il kit che viene venduto online da qualsiasi sito voi lo compriate a amazon ebay o all'express insomma qualsiasi sito vende il kit completo quindi teoricamente una persona acquistando il kit già è pronto per l'installazione quindi non deve aggiungere altro è vero è che magari qualcuno di noi oppure io stesso cerca sempre di aggiungere qualcosa o comunque di mettere del suo all'interno dell'installazione e quindi mi stavo chiedendo quanto è costato il cinese allora facciamo un piccolo conto proprio così carta e penna alla vecchia maniera senza tante slide o disegnini vari ok quindi io il cinebasto l'ho pagato 70 euro ok 70 euro è un ottimo prezzo online si trovano dai 110 120 140 150 insomma di tutti i pezzi quindi diciamo che il costo da sostenere come inizio è il costo del cinebasto se lo riusciamo a prendere un ottimo prezzo abbatteremo sicuramente i costi totali per l'installazione quindi diciamo il punto fondamentale cercare di comprare il cinebasto da un prezzo al miglior prezzo possibile disponibile sul mercato poi qui parte le piccole personalizzazioni cioè io per esempio ho voluto fare un'installazione con il serbatoio separato quindi che ho pagato 23 euro ok anche qui io ho voluto fare così magari qualcuno poteva tranquillamente installarlo direttamente al serbatoio del campo però diciamo che io ho voluto fare questa installazione un pochino differente poi ho speso 11 euro questo 11 euro che sono solo il display ok ora anche lì io potevo tranquillamente utilizzare anzi ce lo dovrei avere qui da qualche parte il display quello classico quello normale quello con la rotellina che ora non trovo comunque potevo tranquillamente utilizzare quello con la rotellina però me garbava di più quello col display ho preso e comprato su aliexpress a 11 euro il display quello nero a 5 tasti poi si parte con l'installazione ok quindi nell'installazione io che cosa ho acquistato ho acquistato innanzitutto la guardiazione siliconica nera che sembra di averla pagata all'incirca 6 euro guardiazione siliconica poi ho comprato 9 euro il nastro d'alluminio ok nastro alluminio ok poi ho comprato 3 euro la cassettina anche qui magari non ce l'aveva la cassettina per la pompa magari qualcuno già ce l'aveva e non l'ha comprata io non ce l'avevo e l'ho comprata e quindi ho speso questi 3 euro poi che cosa ho speso ho speso ho speso non mi sembra di aver speso altro ok mi sembra di aver speso una decina d'euro di staff diciamo che in linea di massima metto un 30 euro di varie ed eventuali e tra le varie ed eventuali c'è per esempio le staffe per l'installazione c'è le cinghie per bloccare l'osservatoio diciamo le viti qualche vite qualche bollone che mi piaceva di più rispetto a quelle in dotazione o per esempio qualche le fascette nere che ce ne erano disponibili mi sembra 6 o 7 io ne avevo bisogno di più quindi diciamo il tubo di neoprene per inserire all'interno il tubo di gasolio quindi diciamo che all'interno di queste 30 euro ci sono tutte queste voci varie ed eventuali ok quindi in definitiva quanto abbiamo speso quindi abbiamo 6 7 3 10 10 19 19 e 3 22 22 qui proprio un conto come quando faccio i compiti insieme alle mie figlie quindi 7 9 9 2 11 11 12 12 e 3 15 quindi la mia installazione è costata 152 euro ok installazione questo è il costo totale dei materiali che io utilizzo materiale acquisto del cinebasto e quant'altro 152 euro ripeto le ho spese io però tranquillamente chi vuole affidarsi al kit che è già compreso nell'acquisto può tranquillamente utilizzare quello cioè il kit con cui viene venduto il cinebasto è un kit già pronto quindi uno utilizzando quello può tranquillamente installare tutto ok ovviamente non ho messo quelle che erano le attrezzature cioè per esempio queste qui le frese a tazza non le ho messe perché perché comunque sono delle attrezzature che ti rimangono quindi il costo è ampiamente ammortizzato nel tempo quindi uno più le utilizza più ammortizza il costo diciamo che se gira intorno agli 8 euro mi sembra qualcosa del genere e per dire ho preso delle fascette in più perché magari mi potevano tornare utile cioè diciamo tutti questi articoli servono per l'installazione esempio il trapano il trapano uno ce l'ha se non ce l'ha lo compra quindi è un oggetto che non ho inserito all'interno del budget di spesa perché comunque sono articoli che uno li compra una volta e poi teoricamente non li dovrebbe comprare più e quindi queste qua come ore per l'installazione allora io le ho calcolate così i video sono durati meno perché comunque stacca e attacca è vero è che magari uno facendo un'installazione facendo anche le riprese dura di più però diciamo che in linea di massima per l'installato ci ne basta come l'ho installato io e poi magari ci sono installazioni ancora più semplici io credo di aver fatto una delle più semplici senza fare grosse cose ho speso ho speso scusate ho impiegato circa sette ore ok quindi sette ore per l'installazione ripeto io comunque non l'ho fatto non lo faccio come lavoro quindi lo faccio come tra virgolette come neofita magari uno più esperto in materia ci può mettere anche la metà tre ore quattro ore insomma però diciamo che in linea di massima io ho impiegato quindi sette ore quindi diciamo da neofita uno dovrebbe impiegare circa sette ore poi possono essere otto possono essere sei però diciamo che grossomodo dall'inizio alla fine bisogna impiegare ci si impiega circa sette ore e nulla questo era semplicemente un conto per capire quanto grossomodo veniva a costare l'installazione questa è un'installazione fai da te mi sono informato in zona da diversi installatori e la richiesta per un'installazione varia abbastanza diciamo il prezzo minimo che sono riuscito a trovare di 200 euro più il ce ne basta ovviamente il ce ne basti a parte a qualcuno mi ha chiesto anche da 350 euro con la scusa tra virgolette della serie si ma io te lo installo da un professionista quindi di conseguenza c'è la mano di un professionista c'è la garanzia e quant'altro tutto vero tutto giusto tutto corretto però partiamo dal presupposto che il cine basto non ha alcun tipo di marchiatura quindi o lo installo io o lo installa un professionista rimane sempre il fatto che l'apparecchiatura installata non ha marchio ce e non ha alcun tipo di garanzia in italia quindi se uno è inesperto e non se la sente è giusto che lo faccia installare ad un installatore però non raccontiamoci frignacci cioè se lo installa l'installatore e dovesse succedere qualcosa a parte vuole vedere chi riesce a capire che cosa è successo in un capri che ha preso fuoco ma comunque dovesse succedere mai qualcosa comunque teoricamente l'assicurazione potrebbe anche non pagare però lasciamo fare questi discorsi che tanto comunque sono già stati fatti e rifatti e ritriti nulla il cine basto funziona perfettamente ora io ce l'ho spento perché comunque la temperatura è quasi primavera quindi non vedo perché accenderlo ovviamente ci saranno da fare alcune modifiche più che altro alcuni avvenimenti cioè mettere una bocchetta d'aspirazione dividere il cine basto dall'altra parte della seduta insomma diciamo ci sono queste piccole cose da fare però diciamo che in linea di massima abbiamo finito nulla ragazzi questo era un piccolo riassunto per chiudere il cerchio e per insomma dare un fine a questo percorso che abbiamo intrapreso per l'installazione del cine basto diciamo la somma da investire è più o meno questa qui le ore da utilizzare utilizzare da impiegare per l'installazione è più questa qui quindi più o meno se qualcuno di voi decide di installarlo grosso modo dovrà utilizzare questa somma di denaro e queste ore di lavoro in descrizione vi metterò i link del cine basto del serbatoio del display del silicone del nastro e quindi quant'altro qualora voi avete necessità di di reperire questi materiali e nulla come al solito io vi ringrazio se volete iscrivervi al canale benvenga se non vi volete iscrivere va bene lo stesso se volete vedere i video vedeteli se non li volete vedere non li vedete insomma ragazzi come al solito massima libertà e ognuno insomma faccia quello che ritiene più opportuno se avete bisogno nei commenti sono tranquillamente a vostra disposizione ok quindi buona giornata e buon lavoro a tutti